Guarda mamma, sono con i miei amici bravi, non con i drogati Stanno facendo cose Grazie È finito Bella questa Vittima da Santa Maria qua Sì Caffante, dite delle cose Bellissimo questo posto Ciao Ciao No tranquillo Hai il tesoro Ci avete truffato Perchè facciato del cuore, no? Perchè facciato del cuore? C'è bisogno, non c'è E allora sulle mani E devi fare un vlog su YouTube Che fanno il re Bello bro Vai 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 Bello Nico Bello Nicky Ciao bro Ciao bro Ciao 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 Let's go bro Oh, sti cazzo di fari, bro E la fortuna voleva Che ora ci sono i cancelli chiusi del cazzo di treno E vabbè, aspettiamo Wow, 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 noi siamo nella macchina Wow, wow Dai, cazzo Oh, cazzo Vai, bro, vai, bro Ehi, la tattica è quella Fidati Ora No Oh, sì No Eh, mica così le prende No, a parte che si muove a cazzo di cazzo Guarda, c'è Marge Simberson Ti prendi Non devi fallire Attenzione C'è la Mancano 3 secondi Oh Non si muove a pressione Non può Cosa di trascinare C'è, c'è La postazione più brutta del mondo Dove mettere delle macchinette Oh, compare uno Compare due Vieni Fidati Ma che cazzo vuoi Vieni Aspettatemi Vieni Sì 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 Sì